Sì, ho un parto lungo ma adesso si è risolta per il meglio, quindi sono contento, come sapete ho firmato un contratto di 4 anni e mezzo e quindi sono molto contento, sono felice, sono felice io, sono felice mia moglie, perché come ho già detto più di un'occasione qui abbiamo trovato un posto splendido, città bellissima e quindi siamo contenti di rimanere qui. Ma questo è frutto dell'impegno, io mi sono sempre allenato a mille, chi mi conosce sa come lavoro, sa che do sempre il massimo e quindi questo penso che sia l'arma vincente mia. Ho sempre dato il massimo e continuerò a farlo perché fa parte di me. Sono contento che mi sono prato a trovare pronto e quella è la risposta più bella che potessi dare anche personalmente.